Si è conclusa con un grande successo la ventunesima edizione del Mediterraneo Video Festival ad Ascea. La Kermess è terminata con il toccante intervento del registe e attore napoletano Andrea Renzi, a cui è andato il premio speciale MedFest 2018 alla carriera. Nel corso dell'ultima giornata è stato siglato il protocollo d'intesa tra l'Università Popolare Medicina degli Stili di Vita e l'Associazione Medica Società Scientifica Ainardi. È veramente una bellissima manifestazione, noi abbiamo sempre creduto in questa manifestazione e dobbiamo ringraziare a Maria Grazia Caso che l'ha spostata da Agropoli a qui ad Ascea da qualche anno perché praticamente la location ha una sua attrattività. Quindi quest'anno abbiamo messo un po' di risorse in view perché vediamo che la manifestazione piace e cresce quindi volentieri investiamo in cultura. Quest'anno hanno scelto tra i messaggi da lanciare uno di tutela e valorizzazione del parco archeologico di Eleavelia che inevitabilmente è sempre alla nostra attenzione. Ebbè sicuramente, noi abbiamo partecipato proprio qualche mese fa a un POC della Regione Campania e l'abbiamo chiamato la città di Parmenide e tra l'altro è stata anche ammessa a finanziamento. Quindi io penso che qualsiasi cosa nel nostro comune dovrebbe tenere come riferimento proprio l'area archeologica di Eleavelia perché è il nostro passato, diciamo, glorioso e noi dobbiamo rifarci al passato anche per guardare con più tranquillità al futuro. Per quanto riguarda i vincitori, per la categoria dei cortometraggi, la giuria degli alunni del Da Vinci di Vallo della Lucania si è espressa a favore di due produzioni Clay a Love Story di Anna Sagaglia e Born in Gambia di Naxto Leuza. Per la stessa categoria, la giuria di qualità composta da Elisabetta Pandimiglio e Antonello Carboni è stata concorde nell'assegnare il primo premio a Born in Gambia. Per quanto riguarda invece la sezione lungometraggi, la giuria di esperti ha conferito due primi premi ex equo a Letain de Forêt del francese François Xavier Drouet e Luna Digas di Nicoletta Nesler e Marie-Lisa Piga. Il Zambetta Pandimiglio quest'anno è in giuria, ma lei conosce già il Mediterraneo Video Fest? Sì, lo conosco da molto tempo, dall'inizio direi. Ho mandato spesso dei lavori, 15 anni fa credo. Quindi hai anche partecipato? Ho partecipato, lo scorso anno è l'ultima volta che ho partecipato con il mio documentario che tra l'altro ha vinto una menzione speciale, un premio. E poi una quindicina di anni fa con un altro film girato in Brasile, Motoboy. E questo è il primo anno con il piacere di venire in giuria. Sono molto contenta di essere qui in giuria perché è un festival particolare che non fa la scelta convenzionale che fanno di solito i festival di documentari. Fa una scelta molto ricercata e che non è limitata al documentario italiano. Mi piace questa cosa che la scelta è nel bacino del Mediterraneo e quindi prende delle realtà diverse ma in qualche modo comunicanti. Grazie. Grazie. Grazie.